Musica Applausi 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 Getsy Christmas è un progetto totalmente dedicato a Natale con brani diversi, scelti tra il repertorio tradizionale ma anche molte cose non note che fanno parte dei repertori popolari della Sardegna e anche della Scandinavia. Applausi In queste due serate abbiamo preparato due diversi menu, il primo ispirato all'epoca bizantina e longobarda, la seconda sera è stata destinata alla cucina di impronta a Normanno Sveva. In realtà è un'esperienza gustativa che prende spunto da fonti dirette, antiche, ricettari ma il gioco, il tentativo è quello di adattare costantemente queste antiche ricette ai gusti attuali. Sembrano patate ma sostanzialmente sono pere invece, con zafferano e latte di mandorle. Un posto unico, metà di pellegrinaggi, metà mistica e quindi anche nell'organizzazione poi del programma abbiamo tenuto conto dei luoghi e della particolarità degli stessi, insomma diciamo che i luoghi sono stati suggeritori poi per la musica, quindi questo è molto importante soprattutto quando sono dei luoghi così ricchi di storia e di architettura. Stiamo presentando in anteprima proprio qui a Monte Sant'Angelo abbiamo un altro progetto sulle mostarde che sono una invenzione del mondo antico a base di mosto come dice la parola ma che al mondo non si fanno più con il mosto e noi ci stiamo reinventando una combinazione di mosto cotto, di senape e di altri sapori. Grazie.